Siamo qui nuovamente nell'appartamento di Via Montanara per l'acquisizione di altri elementi utili ai fini dell'attività investigativa. Anche l'ASL era presente per la rimozione della carcassa dell'animale su cui verrà effettuato un accertamento veterinario sempre su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nuovo sopralluogo a casa dell'anziana retina di 92 anni trovata morta nella propria abitazione di Via Montanara ad Arezzo. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe morta da almeno due mesi con il gattino di casa che ha avvegliato il corpo dell'anziana padrona per poi morire distenti. A questo punto non rimane che attendere i risultati dell'autopsia disposta dalla magistratura di Arezzo. Solamente allora sarà chiara la causa dell'eccesso della 92enne rinvenuta sabato scorso 31 agosto in Via Montanara in città. Una parte del mistero che avvolge la vicenda è stata risolta. La figlia della donna, infatti sessantenne che viveva sotto lo stesso tetto, è stata ritrovata in un albergo di Rimini. Gli agenti della polizia di Stato di Arezzo insieme ai colleghi della questura di Rimini l'hanno raggiunta nella cittadina romagnola dove si trovava da inizio agosto. Il personale della polizia l'ha accompagnata nella locale questura, le ha parlato e le ha comunicato che la madre era morta. Poi le ha chiesto chiarimenti in qualità di persona informata sui fatti sulla vicenda, ma pare che la donna non sia riuscita a spiegare ancora cosa sia accaduto. Adesso la donna, che non può rientrare nell'abitazione a retina perché è sotto sequestro, è stata invitata a non allontanarsi da dove si trova. La signora non è indagata e fino a ieri sera nei suoi confronti non pendeva nessuna accusa. La procura della Repubblica di Arezzo, il fascicolo e guidato dalla PM Giulia Maggiore, sta indagando per abbandono di incapace, ma il reato potrebbe cambiare in base a quanto emergerà dalla autopsia. L'unica pista esclusa a questo punto è quella di un gesto estremo della figlia. Da capire invece se il decesso dell'anziana mamma sia da imputare a cause naturali o all'incuria che ha portato ad una morte naturale, oppure a cause esterne. Ma saranno solamente i medici legali a poter chiarire questi aspetti una volta che sarà stata effettuata l'autopsia prevista per i prossimi giorni. E da chiarire anche la data in cui è avvenuta la morte. Ieri è stato svolto un ulteriore accertamento esterno sulla Salma presso l'ospedale San Donato di Arezzo e sarebbe arrivata la conferma che la donna era morta da mesi, forse anche più di tre. Stando a quanto emerso dall'esame, spiega la dirigente della medicina legale di Arezzo, Pasquale Giuseppe Macri, la morte potrebbe resalire ad un periodo che va dai 4 ai 6 mesi. Non sarebbero emersi segni di violenza, ma sarebbe opportuna prima dell'autopsia, dalla quale non si può prescindere una indagine diagnostica per immagine. Al momento infatti non è possibile stabilire se si tratta di morte naturale o violenta.